Parlare di violenza familiare, di violenza sulle donne, è più che mai attuale. I crimini perpetrati nel nucleo familiare, effettuati per mano di un congiunto, non si riescono più a contare. Il libro intitolato La Donna Colburca parla proprio di questo, un'opera scritta dal realmontino Pascal Schembri, che racconta una storia esemplare, un calvario tutto femminile vissuto alle porte di Milano, nebbe il mezzo del terzo millennio. Una vicenda, quella raccontata da Schembri, in cui cuore e corpo si scindono in una dimensione di violenza coniugale, spinta oltre il limite della ragione. Anche se i media parlano, diciamo, giornalmente si parla quasi della violenza, però secondo me non si parla abbastanza. Quindi per questo sto facendo questo giro promozionale, per dare la possibilità di parlare ancora, perché, come sappiamo, ogni giorno quasi c'è un omicidio. Quindi Venere in Burca è una storia molto sofferta e alla fine c'è un buon fine comunque. Presente all'evento Antonella Gallo Carrabba, in rappresentanza del centro antiviolenza a telefono aiuto di Agrigento, da sempre in prima linea per contrastare le violenze familiari. Oggi purtroppo non basta giorno che il giornale, la televisione, riporta notizie di donne uccise per mano amica, molto spesso anche per mano appunto del marito, del convivente o del fidanzato. Io ho accolto con piacere l'invito dell'autore per la presentazione di questo libro, proprio perché anche esso può essere un veicolo per le donne, per poter agire e soprattutto uscire dalla violenza. A moderare l'incontro è la nostra Margherita Turpiano, che ancora una volta si rende disponibile a questa tipologia di tematiche assai importante. Cronaca dei giorni nostri, appunto, la violenza, la violenza nelle donne. Parlarne oggi, oggi che proprio c'è stata una notizia di cronaca dell'acido buttato sul viso ad una giovane donna, oggi si parla della Venere in Burca, tematica della violenza domestica che viene affrontata, però c'è sempre la speranza, ecco, la speranza che non va mai persa. Certamente stiamo assistendo, specialmente in questi giorni, ad una escalation pazzesca di violenza perpetrata contro le donne, con anche strumenti quali l'acido, per esempio, che è diventato un'arma bianca. Quindi è veramente un'emergenza per la quale si sta anche mobilitando parecchio. Vedevo il Governo nazionale, ci sono delle immediate prese di posizione, si chiedono leggi e sostegno ai centri antiviolenza. E la Venere in Burca si inquadra perfettamente in quest'ambito, proprio perché è una storia di violenza ed è, a mio avviso, la storia di tutte le storie di violenza, perché si sviluppa, secondo un cliché, che è quello, sia per i comportamenti dell'uomo, sia per il modus comportamentale seguito dalla donna. Grazie a tutti.